Musica Un maxi sequestro di beni e disponibilità finanziarie per oltre 18 milioni di euro è stato effettuato questa mattina dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila nei confronti delle imprese responsabili dei lavori per la realizzazione degli alloggi antisismici del progetto case di Cesare di Preturo dove lo ricorderete nel settembre del 2014 un balcone in legno si staccò dal terzo al secondo piano a causa del materiale definito scadente e di difetti strutturali nelle costruzioni. La somma sequestrata equivale al valore dell'appalto vinto da Futura Aquila, società consortile ARL costituita da tre imprese napoletane per la realizzazione di uno dei 19 insediamenti abitativi antisismici realizzati dopo il terremoto del 2009 per sistemare oltre i 16 mila sfollati aquilani in circa 4.500 appartamenti. La misura cautelare eseguita oggi giunge al termine di complesse indagini di polizia giudiziaria coordinate dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale dell'Aquila, Fausto Cardella che da poco si è trasferito in altra sede assieme al sossiduto procuratore Roberta Davoglio e delegate al nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza assieme al nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale del Corpo Forestale dello Stato. Il sequestro è una conseguenza dell'inchiesta della Procura della Repubblica scattata in seguito al crollo del balcone. Le lunghe indagini portate avanti dal Corpo Forestale dello Stato e dalla Finanza hanno portato nell'ottobre del 2015 ad iscrivere sul registro degli indagati ben 37 persone. Le indagini svolte hanno anche permesso di appurare che i materiali impiegati nell'edificazione dell'insediamento abitativo non erano conformi a norme e prescrizioni. I materiali, ossia gli elementi strutturali in pannello multistrato utilizzati dalla Futura Aquila per realizzare i solai erano tra l'altro privi di collante che causava la riduzione di resistenza di tenuta nel tempo delle strutture. Durante le indagini gli inquirenti sono riusciti anche ad accertare che la società fornitrice del materiale alla Futura Aquila aveva conseguito un mero attestato di origine che certificava la provenienza del materiale da uno stabilimento in Polonia attestazione che, sebbene identificasse lo stabilimento di produzione non certificava in alcun modo l'idoneità del materiale prodotto agli usi cui era destinato. Ciò, secondo l'accusa, avrebbe indotto in errore la presidenza del Consiglio dei Ministri circa il rispetto degli obblighi contrattuali, la corrispondenza dei materiali alle prescrizioni normative, l'idoneità allo scopo e alla funzione dei materiali forniti ed utilizzati per la realizzazione delle abitazioni, determinando la derogare la somma di ben 18 milioni di euro a favore della Futura Aquila, che in tal modo si procuravano in giusto profitto, pari alla predetta somma in danno della pubblica amministrazione. Da qui sono arrivati i sequestri eseguiti questa mattina dalla finanzia degli asset aziendali di tre società, tutti hanno sede a Napoli, costituenti lati, denominata Futura Aquila. Le accuse sono di crollo di costruzioni e altri disastri dolosi, falsità ideologica commessa da un pubblico ufficiale, truffa aggravata ai danni dello Stato e frodi in pubbliche forniture. Resistenza all'esione a pubblico ufficiale e manifestazione non autorizzata. Sono queste le accuse rivolte a dieci manifestanti, a nove mesi dalla protesta in occasione della prima visita di Matteo Renzi all'Aquila dell'agosto scorso, segnalati dalla Digos del capoluogo abruzzese all'autorità giudiziaria. Stando a quanto appreso, i denunciati sarebbero stati individuati tra gli attivisti e le attiviste del Comitato 332 dell'Aquila e di quelli che si oppongono alle piattaforme per le trollifere sulla costa adriatica abruzzese. Il reato di resistenza e lesione pubblico ufficiale sarebbe contestato solo ad alcuni dei manifestanti e riconducibile alla presunta aggressione ad un agente di polizia nei pressi della sede comunale di Palazzo Fibbioni, anche se gli stessi comitati, in una conferenza stampa, mostrarono foto e video nei quali si mostra come l'agente fosse stata spintonata involontariamente da un proprio collega. Per tutti gli altri manifestanti, invece, il reato contestato è la manifestazione non autorizzata, essendo stato permesso inizialmente solo un presidio nella zona della Fontana Luminosa, nella parte opposta del centro storico, rispetto a quella della visita del Premier. Renzi, a caso della manifestazione, fu costretto ad annullare la visita a Palazzo Fibbioni e la passeggiata sul corso principale della città, dovendosi recare direttamente la sede del Grand Sassos Science Institute, entrando, peraltro, dall'entrata di servizio posteriore. Sale dunque il bilancio dei denunciati e processati nel corso delle manifestazioni posto terremoto all'Aquila. Sono infatti una sessantina delle denunce partite negli ultimi anni, conclusesi con un'archiviazione, e seri in via giudizio che si sono trasformati in processi. Di questi ultimi, tre si sono conclusi con assoluzioni per tutti gli imputati, uno con condanne a sei mesi per danneggiamento, mentre gli ultimi due sono ancora in corso. È una richiesta di risarcimento formato maxi, quella avanzata dai legali della senatrice Aquilana Stefania Pezzopane, finita a suo malgrado, insieme all'ex governatore Gianni Chiodi, in una brutta storia, tra ricatti, bufale a luci rosse e foto ritoccate. Un milione di euro, come riportato dal quotidiano Il Messaggero, la richiesta della senatrice, che si è costituita parte civile nel processo, mentre Chiodi ha preferito non costituirsi. Grazie all'abilità informatica ed irresponsabile, la senatrice, in una foto ritoccata, era stata immortalata con il compagno, in una vasca idromassaggio, insieme ad un ex narcotrafficante. Immagine che poi fu pubblicata su alcuni giornali a rotocalchi, con tanto di retroscena piccanti, tutto falso secondo quando sostenuto dagli avvocati. La richiesta di risarcimento è stata avanzata nei confronti di Gianfranco Marrocchi, originario di Pescara, editore di TV+, e Marco Minucci di Fermo. Gli ideatori della presunta truffa avevano cercato di estorcere denaro anche all'ex governatore Chiodi, sul quale gli ideatori del piano avrebbero voluto girare un film hard sulla scorta dello scandalo rimborsopoli, in cui venne fuori che Chiodi aveva trascorso una notte in un albergo romano con l'ex consigliere di pari opportunità, Letizia Marinelli. Alla sbarra, nel processo che è stato aggiornato al 3 maggio, anche il regista Giovanni Volpe, di Battipaglia, e Raimondo Onesta, di Pratola. Si è chiusa una stagione da record sul Gran Sasso. Cento giorni di apertura degli impianti si ricordano solo negli anni d'oro della montagna, quando le nevicate erano abbondanti e, soprattutto, le condizioni meteo permettevano di utilizzare funimie e seggiovie in maniera continuativa. Dal 17 aprile, il Centro Turistico del Gran Sasso ha comunicato la chiusura al pubblico degli impianti per la stagione 2015-2016. Una stagione da incorniciare, si diceva, nonostante Nilvenio sia stato meno rigido del passato e le precipitazioni siano state meno abbondanti degli anni scorsi. Record di affluenze, come da dati del Centro Turistico. Bisogna dire sì, la gente c'è stata e siamo abbastanza soddisfatti. Il tutto proprio nell'anno in cui si dovrebbe procedere alla sostituzione della stagione via Fontari. Forse quest'anno dovrebbe essere l'anno buono, dopo due stagioni di rinvie incertezze ed esplosa la polemica tra ambientalisti e operatori sulla revisione dei confini del parco con conseguenti richieste di referendum cittadino da parte del Comitato Promotore. Una piccola risposta a chi diceva che il Gran Sasso è aperto soltanto 40 giorni l'anno? Eh sì, beh certo, poi noi l'abbiamo fatto pesare questa cosa anche con le nostre manifestazioni. E io vorrei dire a questi che parlano a Vamera, io ho i dati degli ultimi dieci anni, ti posso dire gli ultimi cinque, Campo Imperatore ha fatto 90 giorni di media di apertura, quindi non so dove hanno preso questi 40, forse in qualche rivista di qualche altro posto. E questa stagione così estrema, no? Clima estremo, le altre stazioni molto in difficoltà, con nevicate scarse, e lì è uscita la forza dell'altezza di Campo Imperatore. Quindi, anzi, si deve rafforzare Campo Imperatore, non si può chiudere. Tensioni che c'è da scommetterci continueranno anche nei prossimi mesi, quando con l'avvicinarsi della campagna elettorale per le amministrative, magari porranno venire fuori novità anche sulla privatizzazione del centro turistico. Perché una delle partite politiche più importanti per il futuro del territorio si giocherà proprio sullo sviluppo del sistema montano del Gran Sasso e di Campo Imperatore. Fotoracconto dai Domeni il racconto fotografico, emozionante e commosso del fotoreporter aquilano Danilo Balducci che per due mesi ha vissuto sul confine greco-macedone riportando attraverso i suoi scatti l'esperienza di un viaggio da lesbo fino a Calais. A livello psicologico è abbastanza forte vedere bambini che piangono, donne che urlano, insomma, non è proprio facile, facile a livello psicologico, però il mio lavoro io lo faccio anche per testimoniare direttamente senza filtri per essere proprio davanti a quello che succede. Un momento forte, fortissimo, emozionante scelto per aprire la decima edizione dell'Aquila Film Festival, la rassegna cinematografica dell'Aquila che ogni anno si arricchisce di appuntamenti importanti ricchi di spunti e riflessioni. La Grecia sicuramente ha un forte senso dell'accoglienza e anche i poliziotti al contrario di altre situazioni come Croazia, come... no, forse la Croazia anche, ma magari la Serbia oppure gli Sloveni ho visto che comunque erano un po' più fermi sulle posizioni rispetto ai migranti quindi comunque li respingevano in maniera un po' più violenta, tra virgolette, neanche violenta. però comunque ho visto molta bontà nei poliziotti greci, nel campo di domeni che sono molto, molto, molto diciamo, buoni nei loro confronti quindi anche se si creano delle situazioni di tensione loro comunque tendono a smorzare tutto e poi fondamentalmente i greci hanno tutto l'interesse che hanno tutto l'interesse che i siriani e quantomeno comunque tutti i rifugiati nel campo di domeni che al momento sono 12.000 possano passare il confine e andare in Macedonia.